Il senatore, che c'è dietro l'angolo? Lui dice un altro angolo. Un altro angolo? Che c'è dietro l'angolo? Un giro in altri angoli. Che c'è dietro l'angolo? Tu puoi andare lì allo Stato dell'Europa, entri a gambatesa, ma venire lì. Io prendo degli spunti di quella... ...puntini che abbiamo letto stamattina. Attenzione, sì, sì. Allora, siamo qui riuniti con un gruppo di amici, posso chiamarli così, e ve li presento. C'è Giuseppe Litturri, c'è Sergio Giraldo e Fabio Dragoni, che sono venuti qui a Bruxelles per parlare di un tema molto caro a noi. Che è quale... cioè verso quale governance economica l'Europa va incontro? Guardate, sono delle persone che, posso dire, da una vita si occupano di queste tematiche. E preciso, anzi ci tengo a precisare, che queste persone sono dei libri professionisti. Cioè, sono inseriti nella cosiddetta economia reale. e inoltre collaborano con la verità. Cioè, scrivono sulla verità. Sono stati invitati e con molto piacere sono venuti e li abbiamo ospitati. Perché questa mattina si è svolto proprio un dibattito, anche con contributi di altre persone, esperti, proprio su questa tematica. Allora, io lancio la palla subito alla mia sinistra, cioè la vostra destra, che è tutto rovesciato, non a caso dico questo, Giuseppe Liturri, che conoscete senz'altro per le sue magnifiche... Eh no, diciamo la verità, hai la capacità sulla verità di fare delle analisi, soprattutto supportate da una serie di dati veri, reali. Quindi tu commenti dei dati inoppugnabili, si può dire, perché i numeri purtroppo, anzi, purtroppo, devo dire, sono quelli, non è che si possono mascherare. Esatto. Si interpretano e tu riesci a interpretarli molto, molto bene. Allora, lanciate la palla per dire, sono anni, 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 e qui con voi chiaramente sfondo una porta aperta, che noi stiamo sostenendo che tutta l'intera governance economica europea è insostenibile. Cioè, non produce gli effetti voluti, ovvero sperati. Con la pandemia e adesso, con questa maledetta guerra, ancora di più questa governance mostra tutti i suoi limiti. Dal tuo osservatorio, da persona inserita nell'economia reale e da penna, posso dire così, che scrive, e anche molto bene, sul giornale, che valutazione dai? Continuano? Ci sono speranze di cambiamento? Vedi che tutto rimane uguale? Dicono e poi non fanno? A te la parola. Grazie. Grazie a te, Antonio. Grazie per l'invito. Questa mattina abbiamo discusso su due versanti, quello che è accaduto e quello che potrebbe accadere. sapete cosa c'è? Che dividersi su quello che è accaduto credo sia la cosa peggiore, perché ancora ci stiamo dividendo sull'analisi di quello che è accaduto. Cioè, c'è ancora qualcuno che nega un fatto. Houston abbiamo un problema, c'è ancora qualcuno che lo nega. Però, questo già ci preoccupa quando dobbiamo ragionare in prospettiva. Però ragioniamo in prospettiva. Allora, stamattina i contributi di Fabio, di Sergio, anche di Luciano, ci fanno preoccupare, Antonio, dobbiamo prendere atto di questa cosa. Cioè, sia dal punto di vista economico-finanziario che dal punto di vista giuridico, le possibilità di riforma sono possibilità davvero modeste. Io sono fermo alle parole di Luciano, sono fermo anche al... Sto parlando di Luciano Barra Caracciolo. E quindi, giurista che questa mattina ci ha illustrato articoli del testo, del trattato, dei due trattati, quello sull'Unione Europea e quello sul funzionamento dell'Unione Europea, ci ha illustrato davvero il vicolo cieco in cui siamo, della sostanziale irriformabilità dei trattati. Cioè, nei giorni in cui qualcuno, così, giusto perché è nell'angolo e ne vuole uscire, parla di riforma, parla di rinuncia al principio dell'ananimità. Il Barra Caracciolo ci spiega, carta alla mano, che c'è qualche problema. E questo dal punto di vista giuridico. Però, dal punto di vista economico-finanziario, anche dal punto di vista politica industriale, io ora vorrei anche coinvolgere sia Fabio che Sergio. l'ABC che ha il pallino in questo momento è esattamente nell'angolo, da un lato. E dall'altro lato c'è qualcuno che mi dice guarda che la politica industriale basata sul Green New Deal è una politica industriale che ci sta portando a 200 all'ora contro il muro. Allora, domanda sui due fronti. L'ABC potrà venire fuori dall'angolo in cui si è andata a cacciare? Non devo spiegarlo a te, lo spiego a beneficio di chi ci ascolta. L'angolo è aumento i tassi e mando tutto a ramengo, oppure non aumento i tassi e mi arrivano i tedeschi dietro casa leggermente arrabbiati. L'altro punto è politica industriale, ma davvero è pensabile che rinuncino al Green New Deal o a una parte del Green New Deal o lo ritardino dopo averlo annunciato con grandi squili di fanfara? Che mai vi permetto di... Scusa se mi intrometto, tu giustamente hai citato l'ABC e il ruolo dell'ABC. Nel momento in cui praticamente si sta esaurendo il volume, chiamiamolo così, il volume di fuoco delle operazioni straordinarie, chiamiamolo così, adesso si chiamano PEP, che praticamente è un quantitavising pandemico, in un momento in cui ce n'è ancora più bisogno perché c'è una guerra in atto di cui purtroppo gli sviluppi ancora non sappiamo ben valutare. Quindi nel momento di maggior necessità c'è una BCE che dice ah io mi fermo perché io di fatto non sono una banca centrale, sto facendo delle operazioni al limite del mio statuto, anzi sono molto criticato dai tedeschi e stiamo iniziando a vedere che già gli spread iniziano sempre con la buona pace di coloro che dicevano che non è vero che gli spread sono determinati dall'azione calmeratrice della Banca Centrale Europea. Quindi da danni dovuti alla guerra e già della pandemia avremo ulteriori danni creati da una BCE che prende le mani legate. Scusa la gamba tesa ma purtroppo è così. È così. Cioè ma se ne rendono conto o non se ne rendono conto? Questo è pure un problema. Scusatemi. Partirei da una considerazione. Poi questo è un tema che ovviamente lasciamo sviluppare all'amico Sergio che dalle colonne della verità si occupa di energia. perché oggi va molto di moda. Fino a due anni fa andavano di moda i virologi. Fino a sei mesi fa vanno i virologi. Poi sono andati di moda gli esperti di energia e così anche gli esperti di geopolitica o di analisi militare. Peccato che l'Italia è stata esclusa dai mondiali perché non avremo anche gli esperti. Esatto. Però mi sento di dire che è un po' il tuo momento Sergio fra poco. No ma a parte questo cioè allora la notizia di queste ore è che di gas ne sta arrivando poco. Di chi sia la responsabilità o meno non lo sappiamo però dopo oltre 60 giorni di conflitto siamo arrivati a quello che temevamo e cioè al gas che arriva con il contagocce o quasi. Quindi se siamo in una situazione in cui il gas non arriva o non arriva nella quantità che ci servirebbe la domanda che noi ci poniamo è che cosa può fare la BCE? Nulla. Cioè la BCE in questo momento ci troviamo di fronte al paradosso in cui la BCE può solo fare danni e li farà perché non è che può risolvere la situazione può solo peggiorarla. L'ha anche fatta in passato. L'ha anche fatta in passato. Quindi qual è il danno che in questo momento la BCE può fare? Allora premesso che la BCE può stampare denaro che poi sappiamo che il denaro non lo si stampa ma si fa con un click e quindi può in un certo senso risolvere il problema dello spread ma non può risolvere il problema del gas. Quindi premesso questo la BCE in questo momento può fare solo danni e purtroppo lì ci sono tutti i segnali che questi danni li faccia. Perché? Perché l'inflazione sta aumentando e quindi il manuale dell'ottuso banchiere centrale dice se i prezzi salgono bisogna ritirare la moneta dalla circolazione e bisogna anche aumentare i tassi. Bisognerebbe capire perché i prezzi salgono. Ad esempio negli Stati Uniti i prezzi salgono come da noi con la non trascurabile differenza che gli stimoli fiscali che gli Stati Uniti in questi anni hanno elargito nella loro economia legacy denaro distribuito a pioggia effettivamente ha fatto il suo effetto la gente in buona parte non sta ancora rientrando a lavorare e sta spendendo questi soldi quindi non hanno iniettato solo vaccini ma hanno iniettato anche denaro nell'economia e se l'inflazione ha una ragione di questo tipo è un po' come il colesterolo buono cioè l'inflazione è buona perché la gente acquista perché ci sono beh lì la banca centrale può fare qualcosa effettivamente il manuale del bravo banchiere centrale prescrive che in queste situazioni il banchiere centrale interviene alza i tassi come ci dice spesso Giuseppe smette di iniettare denaro nell'economia e con un po' di tempo la situazione si stabilizza non è questo il nostro caso in questo momento i nostri prezzi stanno salendo non perché l'economia si sta surriscaldando ma semplicemente perché ci mancano le cose e in particolar modo ci mancano le materie prime e i prezzi dell'energia stanno salendo quindi se si partisse da questa banale considerazione il bravo banchiere centrale che non c'è a Francoforte dovrebbe dire beh signori noi in questo momento possiamo fare solo danni e quindi per non fare danni non facciamo nulla in questo momento la situazione migliore che ci potrebbero prospettare e non ci prospettano i banchieri centrali è non fare nulla così non è quindi parlando di governance questi signori concepiscono la guida di un aeroplano soltanto con il pilota automatico dopo aver iniettato denaro nell'economia bisogna toglierlo non è il momento non importa va tolto quindi la situazione può solo peggiorare in tal senso non vedo come una riforma impossibile delle regole di funzionamento dell'Europa possa portare a risolvere il problema grazie ora guardiamo l'altra l'altra leva l'altro fattore che sta agendo perché BCE abbiamo ascoltato però a prescindere dalla politica monetaria noi abbiamo fatto una scelta di politica industriale che ancora prima della guerra in Ucraina attenzione ancora prima della guerra in Ucraina aveva fatto scattare il pandemonio sul mercato delle materie prime e anche sull'inflazione in unione con lo shock post-covid quindi shock post-covid in atto hanno avuto questi geni l'idea di lanciare il Fit for 55 questo programma di secondo il quale avremmo dovuto raggiungere entro il 2030 degli obiettivi che erano effettivamente in un tempo così breve praticamente irraggiungibili ora da questa linea questi signori defletteranno o andranno dritti come se nulla fosse come se non fosse nulla accaduto come se l'inflazione non fosse all'8% e tutto il resto questa è una bellissima domanda a cui non c'è risposta per il momento quello che è chiaro è che questa nuova politica verde è in sé inflattiva è in sé porta inflazione perché richiede una serie di investimenti di capitali e richiede sostanzialmente un ritorno di questi investimenti in tempi abbastanza brevi e quindi c'è una necessità di di moneta per cui i prezzi in qualche modo sono tendenzialmente alti in un sistema come questo e io ho la sensazione anche da quello che capisco da voi che siete più esperti sulle politiche monetarie la mia impressione è che non si possa uscire da questo vicolo cieco in cui siamo e cioè se alzo i tassi provoco una recessione ma se non li alzo c'è l'iperinflazione a me sembra che non si possa uscire da questo vicolo cieco se non con le politiche industriali cioè se non con investimenti se non con il lavoro cioè tornare diciamo così a a politiche di intervento anche di intervento massiccio dello Stato che ricreino uno sviluppo economico che ha basi solide fondamenti no? e che non sia più semplicemente una politica monetaria perché la politica monetaria io ricordo è una corda tu puoi tirare ma non puoi spingere è questo un po' il punto allora quello dell'energia è un settore base ed è un settore base mi viene da dire non è neanche è un'industria in sé ma è quasi una meta-industria perché è un'industria che permette alle altre industrie di fare quindi è veramente alla base per cui noi oggi cosa stiamo capendo stiamo capendo che se c'è un'energia che costa tantissimo tutto quello che viene fatto usando energia costerà tantissimo e quindi è chiaro che se tu agisci con il Green Deal e il 5455 su quel livello di prezzi che è il livello della base stai dicendo che vuoi inflazione stai dicendo che stai generando inflazione volutamente perché non posso pensare che non abbiano pensato o calcolato che questo avrebbe avuto l'impatto inflattivo se non l'hanno pensato non lo so però immagino che l'abbiano pensato quindi se è voluta ti auguri che siano in mala fede da un certo punto di vista sì no? perché allora dici meglio esatto se no sarebbe tragico sarebbe tragico tragicomico non so come dire meglio il dolo ecco in certe occasioni no? per cui dico siccome veramente noi stiamo andando verso un sistema che è fatto di auto elettriche e di energia rinnovabile e di accumuli i famosi accumuli cosa sono? grandi batterie dove l'energia generata in eccesso dalle fonti rinnovabili viene immagazzinata per poter essere usata in un secondo momento ora di là della dispersione di questo triplo passaggio doppio passaggio stiamo dicendo che c'è una filiera industriale che dovrebbe essere fatta di queste cose che però in realtà sono è una filiera che è fuori dai confini dell'Unione Europea a partire dai materiali di base come i minerali e i metalli che servono a fare gli impianti eolici piuttosto che gli impianti fotovoltaici fino alla declinazione poi delle applicazioni come l'auto elettrica quasi niente di questo è in realtà disponibile oggi in una catena di valori integrata a livello europeo non c'è niente di questo quindi andrebbe creata ma mi sembra non ci sia l'intenzione di creare questo ciclo virtuoso interno all'Unione Europea mi sembra anzi che ci sia l'idea di sfruttare rapporti privilegiati con alcuni paesi fornitori da parte di alcuni paesi che possono sviluppare davvero questa politica industriale cioè può esistere una politica industriale valida per tutti e 27 i paesi dell'Unione Europea e perché questo è il punto può essere il Green Deal una politica che noi applichiamo per tutti indistintamente probabilmente no perché non è mai esistita un'economia europea esistono economie nazionali che poi si integrano a un certo livello dello scambio ma l'industria è un'altra cosa quindi il fatto che ci sia oggi come valore massimo dell'Unione Europea la concorrenza e non le politiche industriali che sono orientate in un certo modo lascia campo libero a chi a chi è più bravo da questo punto di vista ad arrivare prima ma con ciò non facendo il bene del tutto ma facendo esclusivamente il proprio interesse di parte allora ora vi disegno questo scenario proprio prendendo spunto da quello che ha appena detto Sergio cioè lui ci ha delineato uno scenario secondo il quale questi signori non torneranno indietro quindi ci aspettiamo anni e anni di inflazione sostenuta proprio per tutti i fenomeni che lui ha appena disegnato quindi inflazione calo dei consumi calo del PIL necessità di politiche anticicliche diciamo dettate stimolate col bilancio dello Stato quindi necessità di politica fiscale anticiclica spazio di manovra del bilancio italiano pari a zero zero qual è la soluzione? la soluzione è quella che poi viene prospettata da chi sta nelle stanze dei bottoni non vi preoccupate con i tassi che salgono e con l'inflazione che sale il PTP va in crisi ci pensiamo noi arriva il MES questo è il percorso cioè sta dicendo dalla padella alla braccia sta dicendo questo è il percorso su cui io io non vedo alternative ecco poi facciamo un giro però mi permetto di dirti questo Giuseppe con la tua bravissima capacità divulgativa in un flash ai nostri amici che ci stanno ascoltando spiega proprio in un tweet va bene questo MES quale evoluzione quale funzione avrebbe nel debito pubblico dei vari paesi perché ci siamo accorti che il MES è stato concepito in un certo modo a suo tempo per andare in sostegno dei paesi in difficoltà che non avevano più accesso ai mercati questo è il presupposto iniziale e con la Grecia però pare che siano rimasti disoccupati mi passi questo termine allora gli si è trovato un altro ruolo ce lo puoi dire in flash che cosa praticamente che solo stanno lavorando esatto allora c'è questa questa difficoltà da parte di questi signori che sono alla fine una banca tra virgolette con sede all'Use quante persone sono? 3-400? sì sono 3-400 persone con un monte di stipendi importante perché sono tutti la difficoltà ora per il MES è quella di intervenire in questa situazione perché è stato concepito nel 2012 un'era geologica fa per disciplinare la Grecia sostanzialmente poi ha disciplinato anche la Spagna Cipra il Portogallo e l'Irlanda hanno prestato 100 miliardi 90-100 miliardi e ora stanno riscuotendo i rimborsi il capitale pro quota è garantito dagli stati dell'Eurozona ora qual è il grimaldello che stanno cercando di usare per rimettere il MES noi abbiamo versato 14 miliardi sulla disponibilità a versarne fino a 120 con una settimana di preavviso cioè un assegnino praticamente o con la carta di credito una strisciata di carta di credito un soci di una banca che ci potrebbe mandare un telegramma un giorno e chiederci cari soci caro socio Italia vuoi adempiere al tuo obbligo ormai sottoscritto anni fa di completare il versamento del capitale perché? perché abbiamo dei problemi sulla stabilità finanziaria questo è il grimaldello che questi stanno cercando hanno quasi trovato cioè nel trattato del MES c'è la possibilità di intervenire quando la stabilità finanziaria di uno o più stati membri è a rischio e quale situazione più simile a quella che appena ho raccontato quella di un BTP sotto pressione molto semplice allora il MES arriva va dalla BCE la BCE in questo momento ha in pancia 720 miliardi di titoli di Stato italiani 720 miliardi quasi un terzo del debito pubblico italiano questo è un altro recovery praticamente c'è un piccolo dettaglio che il recovery già aveva delle condizionalità importanti il MES non scherza molto peggio molto stringenti questo è lo scenario che abbiamo davanti a noi riusciamo a pensare a qualcosa di diverso? io come al solito vi lancio la provocazione mi è venuta in mente una cosa e lo chiedo a te che sei un esperto ho letto moltissimi articoli sull'argomento molto puntuali poi fra l'altro mi li conservo tutti perché poi dopo attingo è una fonta mi è venuta un'idea siccome come si dice a pensare male si fa peccato però ci si azzecca sempre se tipo ma con tutti i versamenti dei vari paesi compresa l'Italia nel MES loro hanno una liquidità in questo momento di riserva e mi risulta che questa liquidità venga depositata in deposito presso la banca centrale a tassi negativi quindi noi ci siamo indebitati perdonami il passaggio se dico qualche cosa di sbagliato quindi noi ci siamo indebitati sul mercato mettendo titoli di cui ancora paghiamo chiaramente gli interessi per farli poi per darli al MES e il MES in questo momento quei denari li verse in deposito in attesa di utilizzo presso la banca centrale europea a tassi negativi è giusto? non solo è giusto ma ci aggiungo un carico ci aggiungo un carico che il MES su quegli investimenti finanziari che ha fatto ha subito anche delle modeste perdite perché non è che ha investito solo in liquidità presso la BCE ha dovuto fare qualche investimento un po' più tra virgolette aggressivo e quindi il MES in questo momento ha un problema giustificare la propria esistenza e vede con grande favore dal loro punto di vista l'avvicinarsi di un cliente come l'Italia importantissimo per loro ne va della loro sopravvivenza con l'aggiunta delle caratteristiche cioè il MES delle due l'una o lo liquidiamo oppure lo liquidiamo nel senso che c'è anche la terza via lo liquidiamo forse bisognerà analizzare la terza rispetto alla seconda liquidato nel senso che si liquida prima che continuino a perdere perché hanno pure perso ovvero pagare interessi negativi alla BCE riprendersi quota parte e con quei denari ce li gestiamo direttamente noi noi siamo in difficoltà ancora una volta e qui ributto la palla al centro c'è un problema di modello istituzionale che è disfunzionale è chiaro che se le istituzioni sono disfunzionali gli effetti del funzionamento di quelle istituzioni quali potrebbero essere ugualmente disfunzionali fallimentali però di tutto quello che hai detto come nel gioco dell'oca si ritorna sempre alla partenza tutto questo perché noi abbiamo una banca centrale europea che si chiama banca centrale ma di fatto non è una banca centrale perché sappiamo tutti quanti che le banche centrali di tutto il mondo iniziate dalla Federal Reserve Bank of England Banca del Giappone Bank of China eccetera sono prestatori di ultima istanza mentre invece mi vuole dire che nel sistema di governance economica europea di cui la BCE è un mattoncino e dovrebbe essere un grosso mattone una colonna portante esattamente come tutte le altre banche centrali del mondo essendo monca diciamo di questa azione cioè di prestatrice nel senso di dire penso io a fornire quella liquidità agli stati in un momento di difficoltà cioè faccio io banco ecco tanto per dirlo in maniera estremamente semplice non lo può fare ovvero a certe condizioni borderline del regolamento al punto tale e non è certo una battuta ma purtroppo è un'amarissima costituzione al dire che nel sistema economico europeo i prestatori di ultima istanza sono di fatto le famiglie e le imprese perché sono quelle che poi dopo devono mettere le mani nel proprio portafoglio nelle proprie tasche per poter sopperire la liquidità degli stati mediante la leva fiscale questo è il vero problema cioè i veri prestatori di ultima istanza in Europa siamo noi cittadini del sistema delle imprese a posto ci lamentiamo ma la tassazione questo è il motivo questo è il vero motivo siamo nella curiosa situazione in cui il mondo è completamente rovesciato perché in un mondo normale sono le famiglie che portano i soldi in banca e quindi sono le famiglie che finanziano la banca e la banca presta alle imprese e alle famiglie e la banca centrale garantisce così funzionerebbe invece così ci hanno insegnato così ci hanno insegnato invece ora è un mondo completamente rovesciato perché può sembrare una battuta di colore ma non lo è se voi in questo momento andate in banca e dite io ho 100 andate dal dire una volta c'era il direttore di filiale ora non si chiama adesso c'è no devi fare sul telefonino la richiesta ma non so se voi andate in banca e dici guarda io ho 100 mila euro quanto mi dai due schiaffi ti dicono perché le banche in questo momento non hanno bisogno dei soldi dei risparmiatori se non per vendere prodotti in realtà loro si finanziano in BCE a tassi negativi quindi il mondo alla rovescia consiste in questo che noi abbiamo dei regolamenti di emissione dei titoli di Stato nell'eurozona in cui gli stati dicono oh attenzione noi potremmo fallire sono le famose CAC già nome noben dicevano i latini un nome un destino quindi clausola di azione collettiva CAC cioè in tutti i regolamenti di emissione dei titoli di Stato voi dite guardate cioè gli stati dicono noi potremmo fallire cioè non troverete mai una scemenza di questo genere ma per definizione non può fallire se acquistate un titolo di Stato del Giappone piuttosto che degli Stati Uniti piuttosto che della Gran Bretagna quindi il MES trae la sua origine dal fatto che gli stati hanno detto noi scegliamo di non avere una banca centrale che ci garantisce e quindi abbiamo inventato il MES il quale MES ricordiamocelo sono due o tre anni che sta cercando lavoro si sta ve lo ricordate il MES pandemico no? quindi il MES pandemico cioè diciamo che in cassa integrazione questo MES cioè quindi sì esatto sostanzialmente il reddito di cittadinanza del MES in questo momento e non è una battuta perché Giuseppe ha scritto un articolo in cui ha trovato una chicca perché Giuseppe da bravo commercialista analizza i bilanci del MES aveva trovato che il MES in realtà era salvato dagli stati non era un fondo salvastro era il contrario poi dopo ce lo spieghi ce lo spieghi meglio perché poi è arrivata la riforma del MES e anche qui il MES sta cercando di fare una cosa allora perché questa riforma è pericolosa e idiota è pericolosa perché perché il MES grazie a questa riforma praticamente diventerà una sorta di agenzia che supervisiona tutti i debiti cioè fino ad oggi il MES si fa gli affari dei suoi debitori uno potrebbe dire una banca giustamente sorveglia gli stati e con quella scusa impone cose e lo abbiamo visto in Grecia domani con la riforma approvata del MES il MES diventerà una sorta di soggetto incaricato di monitorare la situazione dei singoli stati e si potrà trovare i suoi clienti dicendo la situazione di stabilità del debito italiano in questo momento noi riteniamo non essere particolarmente soddisfacente è chiaro che se il MES dice una cosa di questo genere scatenerebbe il panico ora in questo momento il rischio non c'è perché siamo impanicati per ben altri motivi fra cui un rischio potenziale di conflitto nucleare alle porte questa è la prima considerazione seconda considerazione il MES sta cercando lavoro un altro lavoro che il MES si sarebbe inventato o questi signori qua intorno avrebbero avuto la brillante idea di rendere il MES una sorta di lo chiamano come lo chiamano backstone cioè supporto al sistema bancario cioè voi sapete che in Europa purtroppo e in Italia lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle da un po' di tempo le banche possono fallire possono fallire e ne sanno qualcosa gli obbligazionisti specialmente di banca etruria carichieri e così via perché perché il mercato è bello quindi lì là sotto sopra incuranti del fatto che lo dice altra bella idea altra bella idea no come dice avevamo un sistema bancario adesso non perché per carità noi diciamo sempre l'Italia ma veramente fra i più solidi del mondo sono riusciti a distruggere anche la fiducia degli italiani nei confronti del sistema bancario italiano come dici te quando uno vai al parcheggio fai l'esempio del parcheggio che quello lì fallo vai tu vai tu te lo do vai me lo regali te lo regalo vai voi mettete la macchina al parcheggio è di Rinaldi è di Antonio voi portate la macchina andate al concerto la lasciate al parcheggio lì bene pagate vi danno il tagliandino andate al concerto tornate e la macchina non c'è più perché nel frattempo il parcheggiatore è fallito quindi è la stessa cosa per pensare voi andate in banca pensate 100 euro va bene perfetto risparmi di una vita avete pagato le tasse sopra tutto tutto perfetto tutto regolare va bene dopodiché arrivate e dice mi dispiace è fallita la banca ma io sto il tagliando che l'ho depositato io ve l'ho depositata voi avete una licenza per poterlo fare non è che vi siete sbagliati siete sotto controllo noi ci sembra che ci si rida ma sul caso banca etruria io conosco artigiani che si sono visti polverizzati da un lato i risparmi di una vita e dall'altro avevano un mutuo con la banca che era sempre a piedi cioè quindi ma com'è sta cosa com'è questa cosa cioè la banca quando è debitore tanto per spezzare ci si tira una riga tanto per spezzare un pochino mi ricorda quella barzelletta di proietti che fa l'avvocato ma com'è sta storia sì qui e puntini puntini ultima ultima banale considerazione arrivo proprio a questo punto e poi vi lascio la parola si sono inventati per il MES un nuovo ruolo il backstone siccome backstop 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 poi tutte queste cose inglesi ma è fatta apposta è fatta apposta perché non ci si deve capire nulla e noi un pochino lo mastichiamo quindi figuriamoci faccio tutte sigle acronimi sono bravissimi hanno una fabbrica di acronimi qui si fabbrica solo acronimi hanno una fabbrica di acronimi veramente just in time te lo fanno a un tempo reale allora il MES al MES viene data la possibilità di intervenire allora che succede se una banca fallisce nel magico mondo dell'euro allora prima di tutto c'è il fondo interbancario di tutela poi c'è il fondo di risoluzione ovviamente prima devono pagare i risparmiatori se non basta il taglio ai depositi dei risparmiatori interviene un fondo di risoluzione unica che è una sorta dovrebbe intervenire di grande fondo interbancario se non bastassero quei soldi allora interviene il MES ora voi capite bene che una cosa di questo genere è di una scusate una cazzata se squipedale perché perché se si arriva ad una situazione di quel tipo è chiaro che non basterà l'intervento del MES è come se noi stessimo prefigurando l'intervento del MES se fallisse una grande banca di sistema eh tipo che può essere Deutsche Bank è come dire il MES è un'assicurazione contro la fine del mondo ora però ma se la fine cioè se si arriva alla fine del mondo niente ne fai di un'assicurazione contro la fine del mondo però Giuseppe ci è debitore di una chicca sul bilancio del MES sugli stati che salvano il MES ma guarda è presto detto nel momento in cui il MES non ha capacità autonoma di indebitamento quello che conta è il capitale il MES viene salvato dal capitale degli stati e questa è la chiave e addirittura sul rendimento di ma è diventato d'attualità oggi siccome il MES se dovesse intervenire sul debito degli stati membri ha oggi un capitale sottoscritto ma non versato di 600 poco più di 600 miliardi di cui poco più di 100 versati e sì perché la quota è 14 miliardi in Italia su 100 se dovesse acquistare quote rilevanti di titoli di stato italiano sarebbe insufficiente anche quel capitale cioè dovrebbe utilizzare una cosiddetta leva finanziaria elevatissima che metterebbe a rischio lo standing di AAA del MES cioè non è che il MES può fare miracoli attenzione anche da questo punto di vista e io vi lancio un'altra riflessione ma è mai barra provocazione ma è mai possibile guardando indietro negli ultimi vent'anni che ogni volta che l'eurozona è in crisi abbiamo due alternative o violiamo i trattati o salta l'eurozona cioè io mi chiedo ma è possibile che un sistema istituzionale che proprio nei momenti di crisi deve dare prova della sua efficacia nei momenti di crisi non c'è la soluzione cioè è costruito solo per i tempi di vento a favore quando invece un sistema istituzionale dovrebbe essere soprattutto soprattutto quando il vento è contrario non abbiamo mai una soluzione mai allora che succede non abbiamo nulla da poter spendere quando serve come lavoriamo sull'emergenza Sergio ma è così perché questa è proprio la caratteristica di questo sistema perché esclude che cosa esclude l'intervento politico cioè funziona benissimo come si è detto prima e anche stamattina quando c'è il pilota automatico quando la strada è dritta quando la strada è dritta allora c'è il pilota automatico e si viaggia benissimo se c'è una curva il pilota automatico non sa cosa fare perché perché non è programmato per quello perché è governance e non è politica e invece è la politica che deve fare delle scelte la politica che dice prendiamo questa strada e ci andiamo fino in fondo che vuol dire che c'è una politica che è responsabile di quello che fa nei confronti dei cittadini scusami se ti rompo per rafforzare quello che tu hai detto in fondo le forzature chiamiamole così della Banca Centrale Europea con le famose operazioni straordinarie il QE è stato proprio perché non essendoci l'intervento politico hanno preso diciamo così l'iniziativa di sopperire alla mancanza di politica con delle operazioni veramente borderline rispetto al regolamento perché la politica era latitante erano delle azioni che doveva decidere la politica cosa che non ha fatto allora per evitare lo sfraccello allora c'era Draghi e fece la famosa operazione quantità easing cioè si è preso dei ruoli che non erano né previsti né tantomeno previsti dai regolamenti scusami ma è esattamente così perché alla fine viene a colmare un vuoto politico sotto un velo tecnico ma è evidente che invece no è una decisione politica che però in questo caso arriva a carico di un soggetto che è ancora meno responsabile politicamente di quello che fa ma poi non è giusto perché deve essere la politica che è la giusta intermediazione con i cittadini la democrazia funziona così ma è quello che è non a caso il termine governance è un termine mutuato dal diritto societario certo perché c'è questa venerazione no c'è questa venerazione del mondo delle imprese liberista e così via qual è la governance dell'azienda è un termine aziendale non si parla come dicevi stamani giustamente Sergio non si parla di politica ma si parla di pacchetto e quindi non si parla di politica ma si parla si parla di governance e quindi si equipara tutta questa roba ad una sorta di società e come in tutte le società poi si arriva al dunque che devono decidere i soci e qui si arriva al noccio ma i soci nella mia testa sono i cittadini esatto i vari azionisti sono loro quindi sembra che non sono il parco buoi hanno scoperto hanno scoperto che allora l'eurozona e l'unione europea in generale in tutti questi anni si è alimentata di una propaganda siamo belli siamo bravi siamo fighi tanto è vero che sta aumentando il numero dei partecipanti a questo club quindi benvenuta la bulgaria benvenuta l'ungheria benvenuta la polonia benvenuta la repubblica cieca e quindi c'è questa alimentazione quindi siamo belli siamo bravi vedete vengono tutti da noi però scusami se ti dico c'è stato un piccolo particolare mi sembra che un paese che si chiama Regno Unito mi sembra Regno Unito quell'isoletta all'estate è uscita democraticamente anche se qui passa per non una scelta democratica ebbene attenzione a questa valutazione semplicissima il peso economico del Regno Unito equivale all'uscita dei 17 paesi dell'Unione Europea meno economicamente forti cioè come se fossero usciti con un colpo solo 17 paesi più piccoli economicamente parlando per il peso del Regno Unito vero quindi solo con l'uscita è come se 17 fossero andati via vero per fare numero alla fine succede che quando devono essere prese delle decisioni che impegnano tutti e serve l'unanimità l'unanimità non la trovi perché è naturale è impossibile tutti hanno esperienze di assemblee condominiali ma non possono coincidere trovatemi voi trovatemi voi un'assemblea condominiale che si conclude con l'unanimità l'unanimità figuriamoci figuriamoci fra 27 paesi 450 milioni e passa e qui si torna secondo me vi rilancio la parola e credo che Sergio in questa materia sia quello che ha forse più da dire cioè noi ora siamo arrivati alla carne viva perché abbiamo costruito un modello che come diceva giustamente Sergio va benissimo strada diritta può governarlo una scimmia o il pilota automatico ora però noi ci troviamo in una situazione in cui il nostro modello è fragile abbiamo scoperto che non abbiamo le cose l'energia le materie prime per far funzionare per far funzionare la nostra la nostra economia e soprattutto la nostra industria in questo momento rischia di rimanere al palo quindi in questo momento noi abbiamo costruito un sistema che poi sia chiaro ne parlavamo stamani la tanto decantata industria europea non figura minimamente fra le industrie più competitive le aziende più innovative che presentano brevetti le prime 25 aziende innovative al mondo non ce n'è una che una che sia che sia europea quindi il punto è si ritorna al punto di partenza come se ne esce perché eravamo tutti abituati a pensare che fosse sempre solo una questione di soldi fino a ieri era una questione di soldi però ora il problema è che è una questione non solo di soldi ma una questione di gas allora io su questo voglio ascoltare Sergio con una brevissima mia presentazione e cioè oggi è giovedì 12 maggio solo pochi giorni fa in quest'aula qui alle nostre spalle la presidente della commissione Ursula von der Leyen annunciò al Parlamento Europeo come se fosse scolpito nelle tavole della legge il sesto pacchetto di sanzioni sono passati dieci giorni e il pacchetto è nella nebbia assoluta addirittura non è arrivato nemmeno a livello di consiglio dei ministri è ancora a livello di coreper quindi la rappresentanza permanente degli ambasciatori siamo a livello di scerpa perché non se ne viene a capo il sesto pacchetto di sanzioni è vede i 27 paesi dilaniati sì perché riguarda tagliare l'ombelico del gas con la Russia allora cosa è venuta a fare la von der Leyen qui nell'aula a raccontarci i suoi di desiderata questo ci deve far capire la disfunzionalità di un'istituzione tu vieni davanti al Parlamento davanti agli azionisti per citare le tue parole annuncia i delegati azionisti i delegati degli azionisti e nulla in genere si viene quando già è tutto pronto dice vi annuncio vi annuncio si sottoscrive si è venuto a parlare ha fatto una proposta ha fatto una proposta la commissione propone ma di solito almeno quando succede questo c'è già un accordo di massima poi si vanno animare i dettagli ma il grosso ma si risolve una notte diciamo invece non è andata così perché perché in realtà qui non si sta dicendo di sanzionare un paese per quello che sta facendo si sta dicendo che si vuole sradicare un modello industriale che è quello basato sugli idrocarburi a basso costo che è quello che ha permesso all'Europa a svilupparsi e dilla tutta chi è che sta facendo per primo ma è anche da comprendere sono proprio tedeschi che hanno grossissimi problemi ancora di tagliare completamente hanno grossi problemi sul petrolio e derivati sul gas non ne parliamo neanche ma per quanto riguarda l'Ungheria che è il paese che più di tutti sta frenando su questo sesto pacchetto che riguarderebbe solo il petrolio riguarderebbe questo sesto pacchetto petrolio e derivati ok quindi il diesel e il gasolio da riscaldamento che arrivano dalla Russia per l'Unione Europea già quasi finiti praticamente tra l'altro tutto questo si inserisce già in una situazione di mercati energetici fortemente in una situazione dove ci sono grossissimi problemi di scorte di gasolio che non ci sono più però ci aggiungiamo questo e aggiungiamo quindi il fatto che ci sono paesi che dipendono tantissimo dall'importazione di greggio e derivati dalla Russia perché questo è quello che gli ha consentito di arrivare fino a qui dove sono l'Ungheria dipende fino al 75% dalla Russia se tu non gli puoi dire in un mese chiudi le importazioni perché gli devi dare delle alternative gli devi dare del tempo gli devi dare dei soldi ma anche di logistica ma banalmente c'è un oleodotto che arriva in Ungheria e gli porta tutto il petrolio greggio di cui hanno bisogno non è che fai ne fai un altro in un mese fai un altro che però arriva dal Qatar non lo so arrivi con le navi ci vuole qualche ora di più a farlo ecco ci vuole qualche ora di più cioè come fai a pensare di sradicare dei modelli industriali che sono basati su decenni di sviluppo nel giro di un mese perché vuoi fare le sanzioni il punto è che in realtà quello che ci ha detto stamattina Luciano Barra Caracci chi non ha visto stamattina potrà rivederlo sulla pagina Facebook è una cosa importante sul finale del suo intervento lui dice uno dei fondamenti dell'Unione Europea è la sicurezza dell'approvvigionamento energetico scritto nei trattati scritto nei trattati e anche aggiungo io diciamo così a buon mercato o comunque a un prezzo ragionevole oggi non abbiamo né l'una né l'altra cosa non abbiamo né la sicurezza né il costo basso perché? perché non c'è stata in realtà una politica di sicurezza dell'approvvigionamento ci sono stati paesi che si sono avvantaggiati di alcune loro situazioni di alcuni loro rapporti leggi leggi Germania con Nord Stream 1 con la Russia fatto apposta per evitare di passare da qualunque paese ci fosse in mezzo quindi sotto il mare del nord per avere un collegamento diretto quella cosa tra l'altro ha impedito all'Italia di diventare un hub del gas dal Mediterraneo perché ci fu una scelta netta a un certo punto dell'Unione Europea di dire no ormai ormai c'è il nostro non serve che investiamo a sud perché siamo a opposto da nord il fabbisogno è coperto ma queste cose si pagano alla fine e le stiamo pagando noi sostanzialmente quindi il sesto pacchetto più o meno arriverà e però si dirà all'Ungheria e anche a diversi altri paesi che avranno 4, 5, 6 anni di tempo gli si daranno 4, 5 miliardi che vuol dire magari 2, 3 punti percentuali di PIL per questi paesi e gli si darà modo di avere delle forniture alternative ma il tutto questo costa tantissimo ecco se Giuseppe aggiorna i calcoli in tempo reale l'Italia se avesse un trattamento analogo a quello prefigurato da Sergio cioè di un'indennità per il disturbo arrecato anche noi abbiamo un disturbo ecco quanto dovrebbe ricevere l'Italia per rendersi conto adesso parliamo di un 2-3% di PIL ti blocco subito perché c'è il divieto di aiuti di Stato perché questi signori nella loro grande fantasia hanno pensato bene di replicare il cosiddetto quadro temporaneo temporary framework ne hanno fatto un altro dopo quello pandemico non hanno fatto un altro per la crisi energetica con dei criteri molto stringenti e io vi anticipo quello che anticipai mesi fa a proposito del temporary framework pandemico i tetti di spesa che hanno messo le condizioni di accesso che hanno messo sono assolutamente inadeguate per cui domani quando vorremo l'Italia vorrà ricevere oppure erogare alle sue aziende un sussidio pari al 2% del PIL a 25-30 miliardi perché questo è l'impatto minimo di una misura che dovrebbe essere adottata ma è il minimo sindacale è il minimo sindacale a bocce ferme oggi esatto ci sarà questo tema aiuti di Stato stai distruggendo l'integrità del mercato economico single market e anche qui si va per totem per mantra e si perde di vista la realtà ora io ancora una volta porto sul tavolo un tema nuovo siccome quando si discute di queste cose l'accusa è di allora tu vuoi tornare all'autarchia tu vuoi tornare alla quota 90 allora come chi ci sta ascoltando credo potrà prendere il solito sovranista sovranista qui nessuno di noi almeno finora ma in tanti in tutte le sedi ha mai pensato a soluzioni autarchiche è evidente quando anche ora va di moda stiamo parlando di autonomia energetica quindi se c'è un argomento che va di moda ora pensiamo a noi la sovranità è buona quando è europea quando è nazionale è il diavolo esatto siamo di fronte a questa contraddizione allora sappiamo bene che ci sono 27 economie fortemente interrelate fortemente interconnesse e se voi immaginate che abbiamo fatto e stiamo facendo e faremo enorme fatica a disconnettere la Russia con cui cioè per testimoniarvi la difficoltà che c'è nel 2022 di disconnettere un'economia per cui figuriamoci se qualcuno pensa di disconnettere una delle 27 economie non si disconnette nulla non si sono disconnessi nemmeno il Regno Unito cambia il regime allora la proposta è quella di fronte alla domanda come se ne esce la proposta sensata è proprio di chi vuole il bene della comunità non di chi vuole la distruzione della comunità allora l'idea è ma in un momento di resipiscenza non è che prendiamo atto tutti serenamente che il minimo comune denominatore per vivere insieme non sono tutte le materie su cui l'Unione Europea ha deciso di metterci le mani ma un numero inferiore di materie cioè concentriamoci su poche cose su cui possiamo andare rapidamente d'accordo e lasciamo un raggio d'azione più ampio a dei livelli istituzionali come quello nazionale che potrebbero non essere così fallimentari cioè il grande pennello abbiamo visto che non funziona granché bene cosa ne pensate? Lasciatemi dire anche un'altra cosa che se vogliamo avere una dimostrazione plastica della frattanto vedo che i minuti si stanno assottigliando quindi andiamo velocissimi per flash se vogliamo avere la conferma di quanto non sappia cosa fare e non abbia di che fare la Unione Europea è leggervi le dichiarazioni di Ursula von der Leyen di fronte a una degli ultimi tentativi di escalation relativi ad esempio al pagamento in rubli il tanto il famigerato pagamento in rubli che parole ha usato Ursula von der Leyen di fronte alla prospettiva di dover pagare in rubli non stiamo a dilungarci sulle tecnicalità di questa cosa perché ci sarebbe da fare una puntata a parte ha usato due parole ricatto e contingency plan cioè sostanzialmente ricatto la Ursula von der Leyen certifica che noi del gas russo ne abbiamo bisogno e se la Russia decide forse di non darci il gas è un ricatto già questo ci fa capire della qualità dei pesi negoziali al tavolo e poi contingency plan bellissimo che vuol dire contingency plan ma semplicemente razionamento cioè non esiste nessun piano cioè a parte che i piani ben riusciti esistono solo nei film e quindi però le due parole sono contingency plan e razionamento tanto è vero che l'ultima trovata della Unione Europea qual è stata vabbè la situazione è grave mettiamo in comune le nostre riserve cioè in sostanza in buona sostanza la Ursula von der Leyen dice siamo nella merda cerchiamo di starci tutti nella merda attenzione e l'Italia per chi non lo sa ha a livello europeo la capacità di stoccaggio superiore di gas di tutta Europa quindi uomo eni si vede quindi è molto appetibile come dire mettiamo insieme le nostre riserve ma come noi in Italia abbiamo la capacità di stoccaggio superiore vuol dire cedere parte della nostra però non capisco come si faccia ad aumentare il gas a disposizione di tutti mettendolo a disposizione quello che abbiamo semplicemente sarà qualcuno che dà un po' di gas a qualcun altro diciamo le cose come stanno sentite siccome mancano veramente cinque minuti neanche mi preme fare due ulteriori riflessioni premesso scusate lo devo dire siamo abituati ad andare nelle televisioni nazionali finalmente siamo riusciti a parlare senza interruzioni vero Fabio senza pubblicità senza che il conduttore ci abituiamo male esatto quindi meno male ci siamo sfogati oggi dovete venire a Bruxelles per riuscire a fare questa no mi preme dire due flash finali Ucraina perché se ne parla è nel dibattito l'Ucraina sì Ucraina no nell'Unione Europea allora personalmente non sono un decisore politico nel senso lasciamo alla politica la decisione tecnica se accelerare il processo di aggregazione o meno una cosa è certa ci devono dire in maniera molto chiara molto precisa in che modo l'Ucraina entra in Unione Europea perché qui si tratta di ricostruire dalla A alla Z un intero paese che è più grande della Francia e si parla attualmente ma purtroppo saremo smentiti domani da altri disastri altri bombardamenti di qualcosa come 400 500 miliardi di dollari di ricostruzione chi paga il conto io ho i capelli bianchi in testa per ricordare che la unificazione tedesca l'abbiamo pagata tutti allora abbiamo già dato allora quali sono le regole quali non sono oppure facciamo una bella cosa benissimo entra l'Ucraina perché bisogna far entrare Europa valutazioni politiche che lascio intatte senza nessun tipo di critica a favore o contro però liberi tutti cioè non veniteci più a parlare del zero virgola per cortesia perché a questo punto mi dispiace abbiamo veramente già dato flash ultimo e poi vi ripasso la palla governance economica europea rifaccio una vecchia massima del grandissimo Giuseppe Guarino lui mi disse una volta vedi il difetto dell'Europa e dell'Euro è che in genere la moneta deve essere a disposizione e al servizio dei cittadini e dell'economia reale sono riusciti con l'Euro a fare esattamente il contrario cioè è una moneta a cui cittadini e l'economia reale si devono plasmare per le esigenze di una moneta rigida come un dogma mentre invece dovrebbe essere il contrario se noi riusciremo a modificare questa governance europea per trasformare la natura stessa dell'Euro cioè metterla una moneta a disposizione dei cittadini avremo un futuro altrimenti mi dispiace è destinata a fallere questa è la mia sensazione a te la parola la mia idea in pochi secondi sulla via d'uscita è un po' quello che ho accennato nell'ultimo intervento prendere lucidamente atto che questa istituzione si è occupata di fare troppe cose le sta facendo male perché ha necessariamente allargato il raggio d'azione quindi allarghi il raggio d'azione scende il consenso perdonami male e nel peggiore dei modi anche quindi focalizziamoci su pochi temi su cui vale la pena spendersi a livello internazionale a livello inter-europeo sul resto un prudente passo indietro per salvare l'istituzione questa è la mia idea è talmente vero quello che dici Giuseppe che la cronaca degli ultimi anni è la cronaca di un fallimento economico esaurirò il mio commento in 30 secondi per lasciarlo a Sergio 2008 è arrivata la grande crisi finanziaria nel 2008 in quel momento l'economia dell'eurozona aveva la stessa dimensione di quella americana nel 2019 il covid doveva ancora arrivare l'economia europea era il 60% dell'economia americana quindi ci siamo dimezzati rispetto agli Stati Uniti se non è un fallimento questo ecco rapidissimo io sull'Ucraina gli auguro di non entrare nell'Unione Europea voglio dire hanno già una guerra hanno già un sacco di problemi l'hai detto te io sono stato più diplomatico mi sembra veramente troppo quindi auguriamoci per loro che non entrino ecco grazie possiamo terminare tutti quanti dicendo la solita frase che ci fa sempre molto piacere sempre viva l'Italia viva l'Italia grazie grazie grazie